E' partito da Ponte d'Era lo scorso 3 marzo il secondo Giovanissi Tour, un confronto incontro sui territori per far conoscere le opportunità del progetto per sostenere l'autonomia dei giovani. Un tour che rispetto a quello del 2014 ha una formula nuova dove i protagonisti di questa avventura sono i beneficiari del progetto che hanno partecipato ai vari bandi, fare impresa, servizio civile o tirocini. Dopo sei anni dall'inizio del progetto è necessario ripartire dai giovani. A distanza di sei anni si sente l'esigenza di raccontarsi perché crediamo che raccontare i giovani sì sul territorio sia il modo migliore per far conoscere ai giovani le opportunità che la Regione Toscana mette a disposizione attraverso questo progetto. Riparte il tour, riparte con una nuova formula che speriamo piaccia e che sia anche compresa e apprezzata da chi ci ascolterà perché portiamo con noi in tutte le tappe che faremo i beneficiari che hanno già usufruito delle misure di giovani sì o ne stanno usufruendo perché siano proprio loro a raccontare agli altri giovani cosa vuol dire fare un percorso utilizzando una delle misure regionali. L'incontro con il progetto giovani sì in questi anni è avvenuto in modo diverso da beneficiario a beneficiario. Erika Micheletti ad esempio dopo la laurea ha iniziato un tirocinio non curriculare di sei mesi presso l'azienda Extra di Ponte d'Era. Nel 2016 ha scritto la sua tesi proprio sul progetto Giovani Sì. Facevo parte di un progetto di ricerca dell'Università di Pisa e ho avuto modo di collaborare con l'ufficio proprio per svolgere la mia tesi magistrale in quanto mi hanno dato la possibilità di accedere ai dati diciamo agli analytics web del sito e quindi ho potuto fare un'analisi statistica poi sugli accessi che accedeva, abbiamo impostato degli obiettivi delle conversioni, abbiamo monitorato per un periodo gli accessi al sito e questo mi ha permesso inoltre anche di pubblicare una parte della tesi. Giovani sì e poi anche alta formazione e ricerca e Federico Civerchian è all'esempio con un apprendistato presso la New Generation Cisors spin-off della scuola Sant'Anna. Dopo il percorso di studi volevo mettere in pratica quello che erano le mie conoscenze universitarie e ampliarle. Quindi cercavo di svolgere un dottorato o comunque un qualcosa che mi permettesse di ampliare il mio background di conoscenze ma allo stesso tempo lavorare in azienda, non volevo intraprendere il percorso accademico. L'opportunità che mi ha offerto Giovani sì è appunto l'incontro fra le mie due aspettative cioè il dottorato e quindi le mie conoscenze e lavorare in azienda e credo che sia un'opportunità molto importante. Il Giovani sì tour riparte il prossimo 21 aprile da Siena, una nuova occasione per ascoltare le gambe e la testa di un progetto che continua il suo cammino.